Caro direttore, care colleghe e colleghi, per conto dell'Università di Bologna sono onorata di inviare le mie congratulazioni per il trentesimo anniversario dell'Unione delle Università del Mediterraneo, UNIMED. L'Università di Bologna ha aderito a UNIMED nel 2007 allo scopo di rafforzare le proprie relazioni nel Mediterraneo. L'Anna Mater ha da sempre sostenuto l'intento di UNIMED nel favorire la mobilità degli studenti tra le sponde del Mediterraneo. Ha inoltre partecipato a UNIMED Week a Bruxelles, intervenendo nel dibattito tra università e istituzioni europee. Il nostro Ateneo è infine coinvolto UNIMED nel progetto RECO Now, volto a favorire modelli virtuosi di riconoscimento degli studi tra università europee ed emendoriente. Il recente coinvolgimento della nostra università come coordinatore del subnetwork su immigrazioni rappresenta l'auspicio che UNIMED continua ad essere un prezioso interlocutore in un'area del mondo in continua evoluzione. Ancora congratulazioni per questo importante traguardo.